Partenza, semafori, attenzione del semaforo. Prima volta, seconda volta, seconda volta. Siamo spiegati da Vigilino e da Otto Boni. Otto Boni, io nella seconda posizione, chiudendo l'attimino, allarga. Rentre, tranquilli. Siamo spiegati da parte dell'attore. Otto Boni a Castino, fatto un attimino sul lato e ritira giusto Starcallo e... Matteo, sono la posizione, adesso compri di Cattu Maria, non sorpassa e Otto Boni si gira in fondo al giro da lontano. Otto Boni, è una gara via tra la Sparta e la C. Vediamo che Otto Boni è in ritardo. Gli Comunicchi ha ripreso la prima posizione, vediamo che comunque, compri e davanti con la categoria C. Sì, scambio un po' sceglie di attività, Sì, scambio un po'. Sì, scambio un po'. Sceglie di conto, scambio un po'. Sceglie di conto, scambio un po'. Sceglie di conto, è una rossa rindevole, perché gli entrami corrono in due categorie separate. Otto Boni cerca il recupero, cerca il recupero per la categoria C. per una stanza che il secondo non vuole figurare davanti al pubblico appassionato della sua città Volta Mantovana Andrasì, ha un altro pilota di Volta, comprio, sopra in testa Ecco qua il volato della sua vittura, il suo carattere Il suo carattere, il mio di piano, il 3, Griglia, la Cattoporia D4E Con Sorra Davide, Sorra Mattia, Tagliarini, Francozzo, Certo, Amorolo, Roberto e Anderino Samuele Con la cattoria di servizio, c'è un assordo, po' sospena, in più Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti